Presentata oggi pomeriggio nella sala Emanuela Loy di Palazzo Bianchi ad Adrano, la Pasqua 2024 di Adrano, una settimana intensa di appuntamenti che si aprirà la Domenica delle Palme con la tradizionale Via Crucis a cura dell'oratorio del Rosario, poi il triduo di Pasqua molto intenso, giovedì santo con la processione del Cristo alla colonna, venerdì santo di mattina la processione della Dolorata, poi venerdì sera la processione del Cristo morto e poi domenica la processione del Cristo risorto e soprattutto i diavolazzi di Pasqua e l'Angelicata, per quanto riguarda i diavolazzi di Pasqua avranno due appuntamenti la mattina a mezzogiorno e poi la sera in serata in Piazza Umberto alla suggestiva e spettacolare rappresentazione sacra di Don Anselmo Laudine. Quest'anno ci sarà anche la Sagra del Ciciuleo che aprirà la Domenica delle Palme e poi un nuovo appuntamento in programma per la Domenica di Pasqua. La conferenza stampa di presentazione oggi pomeriggio erano presenti tra gli altri il vice sindaco Agatino Perni, il presidente del Consiglio Comunale Carmelo Pellegriti, il presidente della Proloco Nicolo Moschitta e gli assessori comunali Maria Scardina. E salvo Italia, sentiamo le interviste che abbiamo raccolto presentate alla Pasqua 2024, folklore, tradizione, fede ad Adrano. Ecco, vorremmo ricordare gli appuntamenti, sono sempre quelli classici ma sono sempre quelli belli da vedere in quella settimana. Sì, ma nella presentazione di questa settimana santa io ci tengo sempre a sottolineare che le tradizioni si rinnovano attraverso la memoria, si arricchiscono attraverso la memoria. Quindi abbiamo una settimana santa suggestiva dove, attenzione, la fede, la religiosità, è chiaro che al primo posto, perché allora non ci sarebbe, come dice il termine stesso, settimana santa. Ed essa rappresenta per la comunità danita un vero e proprio cammino. Il cammino che inizia con la Domenica delle Palme e si conclude appunto con la Pasqua di Resurrezione. Adrano si ritrova come comunità nella sua identità culturale, storica e religiosa, ma non ha lo stesso tempo per rifiorire e per arricchirsi dei valori che provengono appunto dalla Pasqua. Ecco, professore, questione viabilità. Sappiamo la via Roma è chiusa, anche qualche altra via a causa dei lavori di riqualificazione urbana. Come sarà gestita la viabilità con le processioni in questi giorni? Allora, noi presentiamo il programma. C'è stato, come dire, tutto l'associazionismo presente e quelli che sono i protagonisti poi di questa settimana santa. Ma in questo momento gli uffici stanno lavorando, specialmente quello dei vigili urbani e della polizia locale, per mettere in sicurezza i percorsi. Dobbiamo ringraziare tutte le forze dell'ordine con le quali stiamo collaborando appunto per garantire il rispetto delle tradizioni, ma nella massima sicurezza. E quindi ci sono proprio sopralluoghi ogni giorno, incontri ogni giorno. Non dobbiamo risperdere questi valori, certamente chiediamo un po' la pazienza di tutti. Tutti debbono contribuire proprio a rendere questa settimana sicura, forte nella sua sensibilità religiosa, appunto come dicevo prima, dal punto di vista della tradizione, per arrivare a questa domenica con il trionfo della Pasqua della Diavolata e dell'Angelicata. Inizieremo con la Sagra del Ciciuleo, indandomi i preme a ringraziare il presidente della Proloco, il signor Moschitta, le scuole professionali di Edrano, Eris ed Ars, sempre presenti sul territorio e sempre pronti a dare il meglio di sé alla comunità di Edrano. Inizieremo domenica delle Palme alle 10 di mattina in Piazza Umberto e concluderemo con la Sagra del Ciciuleo, la domenica di Pasqua, sia di mattina che nel pomeriggio alle 18, sempre Piazza Umberto. Noi siamo sicuri che ci sarà una grande partecipazione appunto della comunità adranita e non solo, siamo pronti anche per accogliere gente e i nostri familiari che vengono da fuori appunto per trascorrere le festività pasquali. Una Pasqua all'insegna della pace ancora una volta perché come ho detto in conferenza stampa ci sono tante guerre ancora nel mondo quindi questo è il messaggio che l'amministrazione vuole lanciare al di fuori appunto anche della nostra città. La pace è prima di tutto. La Sagra è organizzata non solo dalla Proloco ma anche dall'Ars, scuola professionale e da History World Italy. Tutte e tre abbiamo realizzato un programma che speriamo che le cose vadano al migliore dei modi perché il nostro intento era quello di portare avanti quelle che sono le peculiarità del nostro territorio ed è il Ciccioleo secondo me è anche una di quelle peculiarità di cui parlavo prima. Si svolge in due fasi come hai detto. Nel giorno 24 domenica delle palme ci sarà l'esibizione di Ciccioleo monumentali fatte dall'Ars e da History World e poi in fase successiva si è unita a noi anche l'Eris che ha collaborato nella realizzazione della Sagra. Giorno 31 marzo invece ci sarà l'esposizione di Ciccioleo in una mostra artistica e per l'occasione noi invitiamo sia i panificatori che i privati a fornirci di questi dolci pasquali perché poi saranno poi devoluti in beneficenza e quindi saranno dati alla Caritas o al Banco Alimentare.